Al nostro appuntamento con il telegiornale Per i Sordi. Un turista inglese di 21 anni è precipitato dal piazzale Michelangelo a Firenze ed è ricoverato in prognosi riservata all'ospedale di Careggi. Il giovane era in compagnia di alcuni amici e si sarebbe esporto dalla balaustra cadendo, forse complice l'alcol, da un'altezza di 10 metri a dare l'allarme intorno alle tre, gli amici del turista ed alcuni passanti. Due soci di un'azienda di pelletteria a Campi Bisenzio in provincia di Firenze sono stati denunciati per aver abbandonato un veicolo in via Chiella. I carabinieri hanno individuato l'automezzo che risultava in pessimo stato di conservazione danneggiato nella carrozzeria e negli interni. Dalle verifiche effettuate è emerso che erano state portate via le targhe. Era presente un grosso cavo attaccato nella parte anteriore della carrozzeria, segno che il veicolo era stato trainato. I carabinieri hanno arrestato in flagranza di reato a Firenze un uomo di 33 anni per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Aveva diversi grammi di hashish, cocaina, un macete con una lama di 30 centimetri, oltre a materiale per confezionare la sostanza stupefacente in dosi e 100 euro in contanti, soldi ritenuti provento dell'attività illecita di spaccio. L'uomo, già noto alle forze dell'ordine, era stato visto uscire dalla propria abitazione a bordo di un monopattino durante un controllo nella zona di San Frediano. Alla vista degli agenti si era allontanato velocemente per le vie del centro. Rintracciato poco dopo è stato perquisito nella propria abitazione. E siamo ai dati del coronavirus in Toscana nelle ultime 24 ore. Altri 942 nuovi casi con un'età media di 53 anni e rapporto positivi tamponi al 13%, in lieve rialzo da ieri. Altri 4 morti purtroppo per Covid nelle ultime 24 ore. Le vittime sono state due a Pistoia, una a Massacarrara e a Pisa. Salgono a oltre 10.000 i decessi registrati nella nostra regione dall'inizio della pandemia. I nuovi casi portano a 1.372.000 i positivi totali. Sorprende constatare come in questa bruttissima campagna elettorale i temi della lotta alla crisi climatica siano incomprensibilmente sottovalutati da quasi tutti i programmi di partito. L'Italia, che continua ad essere l'unico dei grandi paesi europei sprovvisto di un piano nazionale di adattamento al clima, non può continuare a rincorrere le emergenze senza una strategia contestuale. Servono politiche innovative a livello nazionale e interventi puntuali messi in opera dal sistema delle autonomie locali. E' quanto dichiarato da Fausto Ferruzzi, presidente di Lega Ambiente della Toscana. Dico sì alla nucleare di ultima generazione e ricassificatore, ma su Piombino ne dobbiamo discutere. L'Italia deve produrre energia in via autonoma, altrimenti le aziende moriranno. Lo ha detto il senatore di Forza Italia, Massimo Mallenni, coordinatore del partito in Toscana, il quale ha evidenziato l'urgenza per il governo di avviare soluzioni per evitare un'ulteriore impennata dei costi. E' stata inaugurata all'isola di Pianosa la casa dell'agronomo alla presenza del presidente della regione Gianni e del sindaco di Camponell'Elba, municipio da cui dipende Pianosa, Davide Montauti. Da qualche anno, ha spiegato Gianni, Pianosa ha dismesso le funzioni penitenziarie che si stanno esaurendo e può così diventare una perla del Mediterraneo, una fonte di attrazione turistica e naturalistica eccezionale. Questa ristrutturazione è un primo segnale. A Pianosa, prosegue Gianni, ci sono stati detenuti non solo per responsabilità e atti criminosi, ma vi sono state personalità che sono state portate al confine per motivi politici. Pensiamo, durante il fascismo, a Sandro Pertini, colui che diventò poi presidente della Repubblica. L'Otta alla disoccupazione e al disagio, aiuto per chi ha bisogno, sostegno all'innovazione sia in campo economico che sociale, con l'occhio rivolto alle competenze digitali e a quelle utili per rafforzare la green economy. La Commissione europea ha approvato il PR Toscana FSE fino al 2027. La Toscana avrà a disposizione oltre un miliardo di euro, come riporta e conferma una nota della Regione Toscana. La fetta più importante dei finanziamenti, oltre 400 milioni, è destinata all'inclusione sociale. Di questi, 180 serviranno a incentivare l'inclusione attiva, promuovere le pari opportunità, mentre 240 milioni permetteranno, in particolare, di poter accedere a servizi di qualità e prezzi accessibili, compresi gli alloggi e l'assistenza incentrata sulla persona. Non pagava le tasse, ma aveva trasformato una palazzina in una struttura di affittacamere abusiva. Così è stato denunciato a Firenze un uomo di 70 anni, scoperto dalla Polizia Municipale, nella zona di Via Statuto, in modo fortuito durante un'altra indagine. In particolare, è successo che lo stabile venne perquisito l'aprile scorso per un'indagine di droga e furti, che portò a indagare quattro migranti clandestini e a arrestare un quinto uomo. In questa attività investigativa, i vigili urbani scoprirono pure che nella palazzina c'era un affittacamere sconosciuto al fisco. In due giorni ha tentato più volte di avvicinare la ex, nonostante il divieto imposto dal giudice. Per questo, un ristoratore francese è stato arrestato a Firenze con l'accusa di stalking e violazione di un ordine del giudice. È successo nella zona di Campo di Marte, epilogo di una vicenda iniziata nel luglio scorso. L'uomo era stato iscritto nel registro degli indagati con l'accusa di maltrattamenti in famiglia. E prima di concludere, uno sguardo come di consueto alle previsioni del tempo in Toscana per la giornata di domani. Cielo sereno o poco nuvoloso in mattinata, con locali addensamenti di nubi basse sulla costa settentrionale. Nuvolosità irregolare nel pomeriggio, quando saranno possibili rovesci e temporali a carattere sparso sulle zone interne. Venti deboli da sud, sud-ovest, mari poco mossi, temperature in lieve calo. Ed è tutto per questa edizione. Grazie di essere stati con noi. Appuntamento a domani. Arrivederci. Grazie a tutti.